Ragazzi, scena sociale tab laterina, non ci crederete, ma l'atleta Rossi si è classificato terzo, terzo, e l'atleta Melighetti? Guardo, non pervenuto, non pervenuto. Ed ora ragazzi, premiazione per la prima categoria. Dello Marino Lorenzo! Ragazzi, secondo classificato, l'atleta Testi, e il primo classificato è il nostro capitano Martinelli. Un capitano! Per par condizio sto perdendo la voce anch'io, così almeno facciamo coppia. Ragazzi, classifica assoluta! Pierozzi, Luca, terza posizione. Ha fatto, ma ha il premio! Ha, ha il premio! Secondo classificato, e poi dopo, prima posizione, il nostro capitano Uncino. Capitano Uncino! E, oh, oh, che succede? L'arma scelta! I campioni sono... Ragazzi, ho fatto tre secondi posti. Vabbè, 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 l'atleta Martinelli ci ha asfaltato! No, 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 tutti! Tutti! Tutti, tutti, tutti! Il nostro gruppo è stanno... Dai, 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 dai! Ci siamo divertiti! Sì, ci vediamo ragazzi domenica per il Gran Premio di fine stagione e speriamo di riportare a casa qualcosa. Va bene, ciao! Ciao!